Ciao a tutti, oggi sono qua in compagna di Samuele con indossata la felpa macchina riscaldata e i guanti Evolver TX, sono dei nuovissimi guanti corti riscaldati con protezioni viscoelastiche, cioè morbide, sulle nocche certificati emologati anche per l'utilizzo in Francia. Partiamo dalla felpa come potete notare, look molto semplice, pulito, anche fuori contesto moto possiamo vedere che all'interno è rivestita con questi pannelli romati che sono d'alluminio per trattenere il calore, perché scaldando con i cavi non va a disperdere il calore verso l'esterno ma lo trattiene all'interno. La felpa ha al suo interno un piccolo sistema bluetooth che si può connettere all'app su smartphone da scaricare sia per Apple che per Android ed è completa di 4 intensità di calore. Adesso la accendiamo, la mettiamo sulla prima intensità che è il blu. Il blu funziona al 40%, il bianco al 60%, il rosso è già un 80% e il viola è la capacità massima di calore che è al 100% di funzionamento. Come potete notare sotto ci sono tre led di cui se sono completamente accesi vuol dire che la batteria è al 100% come carica. Man mano che si scaricherà vedrete che si abbasseranno i trattini. Quando andrete a schiacciare per spegnerlo rimane acceso, vi dà sempre il livello batteria e poi si spegne completamente. Passando i guanti si possono accendere in maniera indipendente dalla felpa, quindi non è vincolante come utilizzo. Non funzionano a batteria ma devono essere collegati o via cavo alla moto o tramite una batteria dove fa funzionare sia la felpa che i guanti. Anche qua 4 intensità di calore e sempre i led per vedere il livello della batteria. Una domanda che ci viene posta da tantissime persone quando ci chiedono l'abbigamento riscaldato, per la felpa chiedono sempre le zone che scalda, cioè se fa anche le braccia. La risposta è sì, fa anche le braccia, non fa soltanto il busto, cioè schiena e torace, ma fa anche le braccia. Invece i guanti non fanno soltanto il dorso della mano ma fa anche le dita. Detto questo vi aspettiamo in negozio per provarla oppure sul nostro sito tuttoperlamoto.it Il meglio al miglior prezzo